Soccorso d'emergenza in Arizona da parte dei volontari di Human Society, la più grande organizzazione americana per la protezione degli animali. In questo video un gruppo di soccorritori scortati dalla polizia dopo una segnalazione arriva in questa casa di campagna sferduta nel territorio dell'Arizona. Il gruppo non ha idea di ciò che sta per trovare. Centinaia di animali tra cani e gatti vengono tenuti segregati in condizioni di sporcizia e carenza dei beni primari di sussistenza. Vengono però tutti liberati e salvati così da un destino molto crudele.